Non ti intromettere mai nella sofferenza altrui. L'uomo deve stancarsi di se stesso, e bere fino in fondo la coppa di veleno che gli spetta. Non essere presuntuoso, e non sperare di poter aiutare tutti. È possibile aiutare soltanto chi è pronto ad accettare l'aiuto. Una persona che soffre vede il mondo attraverso il proprio dolore, e perciò è sorda e cieca. Ognuno si trascina dietro la sua esperienza di vita senza vedere che si tratta di un peso morto. Se interverrai nell'altrui sofferenza, il vortice karmico ti risucchierà in un gioco a te estraneo. Ricorda che l'uomo è capace di contagiare con la sua sofferenza. Procedi per la tua strada senza voltarti. Soltanto se stai facendo la tua strada potrai aiutare la gente a rialzarsi. Soltanto se stai facendo la sua sofferenza.